La composizione del microbiota, quello che ormai può essere definito un organo di oltre un chilo, composto da virus, batteri e miceti che abita e colonizza il nostro corpo, in particolar modo l'intestino, è strettamente correlata al nostro stato di salute e benessere, la cosiddetta eubiosi o a stati patologici, in quel caso si parla di disbiosi, motivo che ha spinto alla ricerca a meglio comprendere quale sia la stretta relazione fra composizione del microbiota e alimentazione e sulla base delle evidenze sperimentali mettere a punto degli alimenti funzionali postbiotici a base di matrici fermentate in grado di ridurre il numero delle infezioni nell'età dello sviluppo. Per quanto riguarda il microbiota intestinale non si sa ancora qual è un microbiota relativo alla persona sana diciamo, non si conosce ancora quali devono essere le caratteristiche di questo microbiota per cui al momento è ancora molto difficile riuscire a dire questo individuo è sano perché ha un microbiota sano e quindi questo è da tenere in considerazione soprattutto perché ci sono molte speranze, molte attese sul microbiota ma ancora poche risposte. Quello che si sa però è che il microbiota può essere modificato in diverse patologie che possono essere non soltanto nell'intestino come ad esempio le malattie infiammatorie croniche ma anche malattie a distanza come possono essere l'obesità oppure anche malattie neurodegenerative. Ora si sa che malattie neurodegenerative sono associate a una variazione della composizione del microbiota. Però ribadisco definire quale sia il microbiota di un individuo sano è ancora al momento molto difficile. Alla parola microbiota si abbina sempre più spesso la parola prebiotico, probiotico e ancora di più ultimamente postbiotico. Cerchiamo di capire. Allora il prebiotico sono quelle che vengono considerate le fibre per cui le fibre sono necessarie alla crescita del microbiota mentre invece il probiotico è il batterio stesso come possono essere i vari batteri che si trovano anche sul mercato, i fermenti lattici. Il postbiotico è una nuova categoria di prodotti che sono rilasciati dai batteri in particolare dai probiotici e che sono responsabili dell'attività del batterio stesso. Per cui considerando che la gran parte delle interazioni che abbiamo con il microbiota intestinale non sono dirette perché il microbiota rilascia delle molecole che poi sono in grado di superare il muco intestinale, di raggiungere l'intestino e le pareti intestinali, il microbiota in realtà di suo non interagisce direttamente con le cellule del nostro organismo ma sempre attraverso questi prodotti metabolici. Negli studi preclinici l'utilizzo di matrici fermentate ha dimostrato la correlazione con la possibilità di ridurre il numero di infezioni nei bambini. I postbiotici possono avere diverse attività quindi bisogna anche considerare di quale postbiotico stiamo parlando, di quale matrice fermentata. In particolare alcune matrici fermentate hanno dimostrato di essere in grado di svolgere funzioni a diversi livelli. La prima funzione è proprio sull'effetto barriera, sono in grado di ridurre la permeabilità intestinale e quindi permettere meno il passaggio di microrganismi. La seconda è un aumento delle monoglobuline di tipo A, le IGA, che sono coinvolte nella risposta mucosale. Le monoglobuline di tipo A cosa fanno? Circondano il microrganismo e non gli permettono di penetrare. In questo modo lo tengono fuori dal nostro organismo e questo può avvenire sia a livello intestinale che a livello delle vie respiratorie, alte vie respiratorie. Infine possono avere anche un effetto sulla risposta immunitaria. In che modo? Alcuni possono potenziare la risposta immunitaria, altri invece possono ridurre l'infiammazione perché associato ad un'infezione c'è sempre anche un'infiammazione che poi è quella responsabile di tutti gli effetti collaterali dell'infezione che possono essere la produzione di muco, quindi il catarro piuttosto che la tosse, sono spesso associati appunto all'infiammazione. Per cui ridurre l'infiammazione permette anche di evitare gli effetti collaterali di un'infezione. Stiamo parlando quindi di una nuova categoria di alimenti funzionali sicuramente utile per i bambini. State pensando alla possibilità che possano essere utili anche per le mamme in gravidanza, quindi nel periodo della gestazione? Sì, questo sicuramente. Gli studi preclinici ci dimostrano che la mamma durante l'allattamento se è alimentata con una matrice fermentata può rilasciare gli effetti benefici anche al bimbo durante l'allattamento. Quindi mi raccomando ricordiamoci che anche la mamma deve curare la sua alimentazione e non è soltanto l'utilizzo di acido folico ma anche in un futuro dovrà assumere prodotti di tipo posbiotico per permettere poi al bambino una partenza diciamo con il piede giusto e quindi con il giusto start. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.